Modello di punta della casa francese, la DS7 Crossback abbina un look elegante, interni tecnologici e una varietà di motori interessanti. Scopriamone i segreti. Partiamo dal look. Lusso alla francese è lo slogan scelto dal brand e in effetti il design della DS7 Crossback rispecchia la tipica eleganza d'oltrealpe, personalità da vendere e linee seducenti per 4,57 metri di lunghezza, 1,89 di larghezza e 1,62 di altezza. Gli interni del primo SUV DS mostrano una cura spasmodica per i dettagli. I sedili sono avvolgenti e confortevoli, imbottiti con spugne poliuretaniche ad alta densità. La seduta è alta, il cambio piccolo ed elegante, i materiali di assoluto pregio, alcantara, pelle e pelle nappa. I cuori pulsanti della nuova DS7 Crossback sono benzina e diesel. Parliamo dei motori diesel 2000 Blue HDI da 180 CV con cambio automatico e 1500 da 130 CV con cambio manuale. E dei potenti motori benzina 1.6 da 180 CV e PureTech da 130 CV. Il modello guarda al futuro, con un nuovo sistema di infotainment con due schermi da 12 pollici e un nuovo sistema di assistenza alla guida DS Connected Pilot che unendo il cruise control adattivo al lane position assist apre il cammino alla guida autonoma. Parola d'ordine, scelta. 4 gli allestimenti disponibili, il Grand Chic, il Business, il Performance Line e il raffinato Prestige. L'offerta ibrida plug-in del modello si concretizza nella nuova DS7 Crossback E-Tense disponibile in due versioni. 4x4 con motore benzina da 200 CV e la E-Tense 225 con motore benzina da 180 CV alimentato da una batteria da 13,2 kWh per una potenza totale di 225 CV e un'autonomia di 55 km in modalità elettrica. La ricarica della DS7 Crossback Ibrida Plug-in avviene tramite cavi di tipo 2 e 3 ed è gestibile dallo smartphone. Anche la versione alla spina punta alla guida autonoma di livello 2 con Connected Pilot, Driver Attention Monitoring, Night Vision e Park Pilot. In Italia i prezzi della nuova DS7 Crossback partono da 36.800 euro, da 48.700 per la versione E-Tense 225. La DS7 Crossback è stata lanciata sul mercato nel 2018 ma il prelancio iniziò già un anno prima. Le versioni ibride invece sono arrivate successivamente. In Italia ibride invece sono di nuovi piccoli eOutarna. In Italia ibride